Ed è appena uscita l'ordinanza del governo che vieta l'attività ludica e ricreativa all'aperto e coincide dunque con le richieste e la volontà arrivate da molte regioni, tra cui anche il Piemonte. Allora sentiamo ora il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, in veste di presidente regionale del Lancio Piemonte, perché lancia un appello. Sentiamolo. Siamo anche oggi a invitare i cittadini a stare in casa. L'unico modo per uscire da questa emergenza è non uscire, è attenersi ai divieti, agli obblighi dei decreti governativi e delle ordinanze regionali. Sempre di più c'è esigenza di rispettare questo imperativo e l'unica azione che possiamo svolgere è un impegno da parte di tutti che giova a tutti per uscire da questo stato di emergenza.